Ragazzi siamo tornati con un'altra review di una missione evento, abbiamo un'altra missione evento oggi che è Cacciatori Novizi Benvenuti, questa qui è una missione corone che oltretutto è stracomoda perché ci dà a Master Rank 1 i Zuki, Grambaki, Gunvrog e Volvidone sono depotenziati, ok quindi è comunque una missione veramente conveniente, sia per i nuovi giocatori che in realtà quelli che vogliono farmare i matelai di questi mostri e vi danno le corone, quindi chiaramente le andremo a giocare insieme adesso. Io sto utilizzando un set doppie lame status che mi sembrava appropriato per questo tipo di fight, ecco, mi giocherò a livello di roba però potenziatore, lottatore, poi medico, perfetto, e si va. Due alla volta, no? Sì. Non ho finito di bere il siero. Ma, non importa. E poi oltretutto Oltretutto questi non sono solo MR1 ma ti danno, mi danno la stamina, la stamina cappata Morto, no? Sì. Mamma mia. Mamma mia. LOL Sono stati sciolti nell'oblio eterno Oddio proprio Emo dobbiamo aspettare che desponano, quindi intanto li scalco, tanto vale LOL Interessante Eccolo Arriva il Grom Broggy, no? Emo arriverà anche il Volvidon tra qualche momento Non salto all'indietro Non salto all'indietro Emo sono cazzi voi Max Power Eh sì, eh, eh, Grom Broggy Che cazzo mi fa? Emo partbrocca tutto Beh, come partbrocca Ah Ah Littreaction Ehm 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 Heno 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 No, devo schiantare a terra Finish him No, però facciamo la demon dance Lo chiudo No, ok Beh, l'ultimo spinnino Mamma mia ragazzi, spin the win è stato proprio Spin to win simulator Totalmente devastati Poracci Gravrog e lì, no, è sparito Poracci Buono però, dai, buono Vabbè, chiaramente, raga, questa qua è una missione Master Rank 1 Oltretutto con mostri depotenziati, quindi figuratevi Cioè, chiaramente, chiaramente L'ho demoliti nell'oblio eterno Degli oblii eterni Ma va benissimo così, chi se ne frega Posso far vedere anche comunque il potenziale vero che ha questo set Non è caso che Quando proccano gli effetti, ragazzi Lì Lì è finita Parte tutto, parte Quando fa lo spin con lo status trigger Veleno blast Lì basta Ci sono questi mostri che hanno meno HP Sono veramente Questi qui, infatti, sono Tra i vari doppi rami In realtà, questi sono molto forti Perché Sui mostri deboli Sia il fatto che il veleno Che blast Fanno flat damage Fanno veramente, veramente Tanto flat damage Trappola scossa Interessante Quindi vedi che queste qui sono proprio studiate Per essere Per i nuovi giocatori Ci dà anche il nettere da fusione Che è veramente buono Uova argentate Ok Sì, allora ragazzi Vedete queste qui Oltre alle ricompense dei mostri Anche le ricompense proprio della missione Sono pensate per un nuovo giocatore Molto suggerita, ragazzi Questa, questa Molto, molto suggerita Portatevi anche il doppio gatto raccolta Io, il mio gatto Era un gatto d'attacco Così il gatto raccolta vi dà anche Fino a 6 materiali a mostro Quindi In più Che è tanta roba comunque Buono, buono, molto buono Va bene ragazzi Io vi ringrazio per aver visto questo video Aspetto è tutto Ci vediamo alla prossima Bella